Ciao a tutti e bentornati con una volta su Indie Gameplay Ita e con questa bellissima musica di sottofondo che vi presento Tourist Bus Simulator un gioco che ho ricevuto una vita fa dallo sviluppatore dopo avergli mendicato il gioco dopo che lui la prima volta mi aveva detto no sei troppo piccolo io gli avevo detto ma no dai che lo seguono e poi in realtà ho atteso per un motivo ecco il gioco volevo vedere se lo aggiornavano perché aveva qualche problemino comunque con l'intelligenza artificiale nel frattempo qualche giorno fa ho scoperto e non ci avrei mai sperato il gioco in italiano allora premetto è un gioco in cui si guida un bus si gestisce una compagnia di trasporti di persone insomma di passeggeri l'italiano non è fondamentale però è comunque una cosa in più iniziamo una nuova partita ne ho già una iniziata ma voglio iniziarne una nuova perché vi voglio un pochino parlare di questo titolo io qui è un simulatore di bus un po' atipico per il semplice fatto che è ambientato in un posto un po' angusto l'isola di Fuerteventura l'isola dell'arcipelago delle Canarie non Baleari Canarie l'isola su cui tra l'altro io sono stato ben tre volte giusto per farvi capire che nessun altro posto al mondo io ci sono stato in vacanza tre volte quindi voglio dire mi è piaciuto particolarmente e qui è tutto un susseguirsi di stradine non ci sono autostrade o almeno ci sono delle strade veloci ma non così tante e si viaggia in mezzo a questo semi deserto insomma di strappaglie dune in alcuni casi quindi è un gioco molto molto particolare e il tutorial è abbastanza opprimente nel senso che ci lega a dei compiti iniziali abbastanza lunghi sono parecchi però ci illustra tutte le sfaccettature e tutte le funzioni del gioco qui ora ne andremo a vedere poche però vabbè il gioco è consigliato giocarlo con un volante ma non lo farò al momento semplicemente perché ho il volante in postazione da gara ma soprattutto perché io voglio mi piace come anche su Eurotrack Simulator guardarmi intorno col mouse al track e poi si cammina quindi è scomodo perché si scende anche dal bus la cosa che io voglio chiedere a chi di voi lo sa se, sa dirmi, se Eurotrack ha un buon sistema gestionale di compagnia non sono mai arrivato a Eurotrack a quel punto di aprirmi una compagnia appunto perché il gioco è molto lungo, molto ripetitivo quindi ho detto non butto via tempo per magari scoprire che la modalità è semplice non c'è rischio di mancare quindi lo chiedo anche a voi così ne approfitto giochiamo con modalità realistica quindi non c'è niente di semplificato livello di motore, aria e condizionato dobbiamo scegliere tutto siamo arrivati all'aeroporto di Fuerteventura di Città del Rosario Puerto del Rosario insomma adesso non mi ricordo comunque lascia l'aeroporto e sali in macchina abbiamo una macchina che è nostra benvenuto, welcome, bienvenue, welcome il gioco non era in italiano e si vede entra nel riscolo col pulsante C col tasto E accendiamo il motore e niente, e si parte togliamo il freno a mano vedete che in basso a destra sotto la mappa compare ma anche qua sul cruscotto seleziona la marcia con shift sinistro o control sinistro innestiamo la prima fortunatamente è un cambio automatico quindi seguiamo la strada poi col tasto centrale del mouse possiamo usare il mouse anche per curvare quindi avere più precisione però ci vuole una certa dimestichezza nel farlo quindi non lo farò non credo ci siano danni alla macchina ci saranno i danni al pullman adesso arriviamo nella nostra sto guidando un po' da cani arriveremo in quello che sarà il nostro quartiere generale e vi spiegherò alcune peculiarità di questo gioco poi vi consiglio se non l'avete già fatto in passato ma se siete qui probabilmente no di andare a vedere la serie lunghissima che Gameplay Channel ha fatto su questo titolo dato che lui è un estremo appassionato di questo genere allora io da quello che ricordo mi sembra molto simile questa zona eh non ho capito perché devo fare il giro passo direttamente di qua scusa no non vorrei mai però sbagliare destinazione quindi faccio una cosa che uh che non si fa ah no ma che pirla è vero non mi si cancella vabbè adesso ho perso semplicemente tempo vabbè facciamo questa questa rotonda che non serve a una ceppa è abbastanza da mal di mare ecco me sto guidando ne sono consapevole ma non si guidano auto si guidano bus il gioco ha diversi DLC a pagamento che comprendono nuovi tipi di pullman accendi le luce con il tasto L accendiamo anche le luci poi c'è ci sarà la possibilità di svolgere diversi tipi di lavori con il bus e col tasto X e Y è possibile che è un po' scomodo quindi dovrò andare a spostarlo si può mettere la freccia si la X verso destra la Y verso sinistra vabbè mettiamo la freccia il curvo si possono impostare varie cose tra cui la densità del traffico lì intanto vedete un negozio anche lì da quello che so si possono acquistare delle case in cui si può fare il viaggio veloce e spostarsi velocemente da una zona all'altra mentre nei supermercati si possono comprare delle cose delle cibarie che poi verranno utilizzate sul pullman rivendute ovviamente non a prezzo di costo spengo le luci con il tasto L spengo il motore premo C e scendo dall'auto nome della ditta Indy Trans mi sembra brutto quindi facciamo quindi facciamo Indy 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 tour ci piace è notte sta arrivando la sera più che notte qui avremo il garage dove controlleremo il nostro bus vedete che qua da quello che so ci sono delle zone nascoste nel gioco ad esempio qui vedete abbiamo scoperto delle coordinate dove possiamo trovare delle parti in questo caso parti di buggy quindi adesso vi mostrerò anche che cosa sono che cos'è il buggy anche se ne ignoro effettivamente l'utilità adesso vediamo andiamo vi faccio vedere uscendo da qui allora vedete qua c'è un buggy da montare ci sono varie parti da montare poi probabilmente sarà un mezzo con cui potremo andare in giro poi per l'isola ok adesso entriamo nella nostra ditta sinta vede già qualcosina allora vai al computer per acquistare il tuo primo autobus ok il computer è questo qua vedete poi ce n'è un altro ogni cosa all'interno dell'azienda ci da qualcosa tipo la stampante sono gli ordini qui ci sono i contratti perché vi anticipo già più che posso le cose perché non le vedremo in questo gameplay perché il gioco è anche piuttosto lungo vedete qua l'inventario delle cibare delle parti di ricambio potremo stipulare dei contratti dove ci verrà fornito ogni giorno ogni settimana delle parti di ricambio nel caso in cui dovessimo montarle dei cibi anche potremo acquistare addirittura il wifi per i nostri passeggeri che pagheremo noi in termini di giga potremo poi acquistare altri pullman da affidare ad autisti che assumeremo poi andando avanti con i livelli avremo modo anche di spendere punti abilità e acquisire degli aiutanti in più tra cui anche se non ricordo male il meccanico adesso qua vedete che abbiamo vai menu in cui è possibile accedere ai veicoli di seconda mano ai veicoli nuovi vedere la flotta e vedere anche le condizioni in cui si trovano questi mezzi nuovi veicoli veicoli usati e la flotta che abbiamo ora dobbiamo acquistare un bus se non ricordo male sì quindi andiamo ai veicoli usati possiamo comprare un BB40 un comfort class vedete il costo noi abbiamo 200.000 dollari euro scusate 200.000 euro posso acquistare c'è un bus che è veramente economico però vedete le componenti c'è quello che ha bisogno ha 411.000 km 41 litri tempo di consegna 7 giorni costa pochissimo però ha bisogno di manutenzione perché ha bisogno del cambio olio cambio gomme cambio della cinghia cioè è trattato malissimo perché la guarnizione del freno andava fatta 4000 km fa ha fatto più del doppio della cinghia trapezzidale le gomme hanno fatto due volte qualcosa e ha fatto 3000 ok posso acquistare qui vabbè sono le condizioni delle varie componenti io voglio acquistare questo questo coso qua ritira il tuo veicolo dal porto quindi andiamo a prenderlo a questo punto no vale l'orologio da parete per aprire il calendario ok possiamo saltare fino al prossimo evento oppure muoverci in un giorno qualsiasi clicchiamo lì e andiamo a prenderci il mezzo guida a puerto del rosario per prendere l'autobus sì mi ricordavo giusto la capitale la chiamo così del questo invece è il nostro ufficio del direttore con un archivio segreto ma al momento qua credo non si possa fare nulla ancora diamo un'occhiata qua ci sono gli amadietti qua si esce e andiamo a prendere a un chilometro il bus allora posso prendere anche questa macchina no vabbè accendo accendo anche le luci innesto la maccia no metto la retro scusate col tasto boy a mondo col tasto zero si può andare a cambiare la visuale ma io tengo quella interna perché mi piace immedesimarmi ora abbiamo la distanza segnata sul navigatore siamo a un chilometro c'è il limite dei 50 dobbiamo fare attenzione anche a quello qua c'è già coda quindi aspettiamo qua si può ingrandire ci sarà utile quando saremo sul pullman è un pullman che ha bisogno di assolutamente revisione perché gli manca la maggior parte dei tra l'altro io qui ci sono stato in vacanza ed ero in una sorta di no beh no quei cosi lì quegli edifici lì li ho visti ce ne sono diversi però qui dovrei esserci stato in questo paese qui in vacanza sono stato tre volte in tre posti diversi ed è un posto veramente meraviglioso no no non sono stato qua sono stato a Caleta de Fuste in costa calma anche lo dico per chi magari è un assiduo frequentatore di Fuerteventura e poi sono stato a fare anche un tour in cui abbiamo visto tutte le paesine centrali molto bella e sarebbe proprio il posto dove andare a passarci la pensione o in caso di ricchezza improvvisa dove andare a sparire dal mondo il mio punto di vista ovviamente uuuuh ho sbagliato sbagliato scusate scusate ma la macchina dà una sensazione inutile generarci intorno di pattinare sull'olio però ripeto non è un gioco basato sulla guida di auto e poi calcolando anche il fatto che sto giocando con una tastiera però per me è inarrivabile il fatto di fare questo movimento qui e anche magari di andare a cliccare sulle varie strumentazioni che si trovano sul pullman adesso andiamo dobbiamo mettere la freccia siamo tornati al porto del rosario metto la freccia anche se non credo di una multa qua per quanto riguarda le frecce è scomodo tornare al porto va bene eravamo all'aeroporto prima però adesso qua lascio andare si gira di qua quindi x si gira ho scoperto un cocktail bar allora non è sicuramente gioco della vita ma se siete degli appassionati di simulatori di pullman questo è senz'altro molto carino dico proprio l'unica puntina sulla sulla i che potevano metterci era la traduzione in italiano semplicemente per completezza poi si capisce assolutamente tutto però giusto per avere un qualcosina in più per quel poco che comunque il gioco gira piuttosto bene non ha delle grandissime valutazioni nel senso che ci sono comunque dei problemini col traffico quello è è è certificato ok allora dobbiamo andare lì 100 metri e vediamo che che cosa abbiamo comparato va bene ho comprato la merda va bene dai spegni la luce tira il freno a mano metti la folla spegni il motore e scendi dalla macchina quindi io ho comprato sto affare va bene che bella merda che ho comprato eh apre e chiude il portellone col tasto sinistro ok si io potevo applicarmi un po' di più eh però vabbè ho preferito ottenere soldi per me quindi vabbè niente a che vedere col pullman che si vede perché dico normalmente una persona sana di mente normale come tutti quelli che vedete sul tubo che hanno portato questo gioco ho comprato un pullman da turismo normalissimo io invece ho fatto il tirchio anche nel gioco e quindi vabbè andiamo a guidarlo con la C vediamo se lascia la tua auto e riporta l'autos alla tua no lascia la tua auto e riporta l'autobus alla tua compagnia eh primizetta display di destinazione fuori del servizio va bene inizia l'accensione con la E ok si doveva tenere premuto il tasto d'accensione bisogna tenere premuto il tasto d'accensione accendi i fari con K metti la marcia pagina su più direzionale ah è un altro tasto qua no scusami ok non ce l'abbiamo fatta va bene intanto vabbè ha un cambio automatico anche lui non è stato semplice però è una guida abbastanza diversa dal solito adesso portiamo questo pullman a casa per quanto che cacchio ho comprato ho anche sbagliato strada ok ok dai andiamo no magari non sul marcia pisis allora clacson si è una motoretta una motoretta ma posso aumentare la marcia no questa è la retro eh ho capito che subisce danni ogni volta che mi schianto ma non riesco a capire il discorso delle marce però vabbè vedete questo è il problema che capita con le auto qui cioè le auto vi fanno la finta e mi pare che il problema non si sia risolto vi fanno la finta scusate devo P e parcheggio ok mettiamo la seconda e partiamo con la seconda strano che ha altri tasti questo bus per poter avanzare di marcia rispetto alla macchina e rispetto anche agli altri guardando anche la configurazione dei tasti comunque andiamo con la marcia alla seconda andiamo torniamo a casa magari una scalatina eh la diamo eh perché mamma che cacchio ho comprato vabbè poi si può andare a a semplificare la guida magari se giocate con la tastiera aggiungendo un po' più di non so come si dice zona morta ok prego buongiorno niente torniamocene a casa che è là in fondo questo è l'aeroporto 1 1 1 1 in folle che poi cambia marcia cambia marcia e non mi lascia più cambiare dopo parti ok di qua dobbiamo andare e per fortuna così non ho sbagliato strada ui iu 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 comunque come ci ha detto il gioco ogni volta che andiamo a sbattere danneggiamo questo è un mezzo che ha assoluto bisogno di manutenzione perché già c'ha parecchi chilometri non so se 400.000 siano tanti o pochi per un bus ma soprattutto ha le componenti vitali del motore che no però dai vedete la situazione che capita è questa di cui tanti si lamentano su Steam è questa che sono dei completi degli emeriti imbecilli adesso io devo fare manovra e non ho ancora neanche imparato quanto lungo è sto bus dovrei queste sono le varie visuali ecco vedete non è neanche ma sia uno scuola bus praticamente vabbè parcheggia nel cortile e esci dal veicolo non vedo l'ora allora e spengo spengo le luci imposta la marcia in folle ok e esco mamma mia ho speso 13.000 euro per niente per sto rottami qui però vabbè poi vabbè se avete un BB40 mi dispiace insomma se è stato il vostro primo pull non mi dispiace allora si va qui ottieni il tuo primo ordine praticamente qua abbiamo i nuovi ordini qua vedete che proprio c'è la grafica in inglese come era all'inizio e praticamente il gioco ci manda a fare il primo ordine è un viaggio di un'ora e 40 minuti ovviamente simulato ma si arriverà a fare anche degli ordini delle tappe abbastanza lunghe e soprattutto abbiamo appunto viaggi che è questo abbiamo servizi navetta che sono quelli classici che portano dal porto dall'aeroporto all'albergo e i viaggi turistici dove dovremo anche assumere una guida o comunque non so se non ho ben capito una voce in pratica che spiega quello che si sta visitando ed è tutto a costo della compagnia quindi a questo punto noi dobbiamo andare prendere questa cosa qui prendere questo ordine qui accettarlo e a questo punto abbiamo preso l'ordine apriamo il calendario e saltiamo il tempo giusto non abbiamo ancora modo in nessun modo credo di andare a sistemare il camion il camion il pulmino quindi insomma se il gioco vi è piaciuto ve lo porto ancora e faremo la prima tappa se il gioco non vi è piaciuto ovviamente non mancate di farmelo sapere qua sotto così come anche in caso contrario chissà che cosa si diceva qui dentro un bel niente bene ragazzi auto di servizio ah livello 4 perché ci si può rompere il pulmone anche in giro mi sa ragazzi Tourist Bus Simulator è questo l'abbiamo visto rapidamente in modo molto scanzonato fatemi sapere cosa ne pensate e alla prossima ciao 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 ciao